È un obiettivo che è diverso, è un obiettivo, perché la Salernitana ha due punti meno di noi, quindi è un obiettivo. Abbiamo la Salernitana ha due punti dietro e la dodicesima, non so se ha un punto sopra o due punti sopra, non mi ricordo, però il nostro obiettivo è prendere quella di sopra, che ha dodici punti, che ha dodicesima, no scusate, che ha dodici punti, che ha dodicesima. E quindi questo ci permette di pensare un passettino alla volta. E migliorare sul campo, tutti i giorni all'allenamento, lavorare, migliorare sotto piano offensivo, sotto piano difensivo, non abbiamo altra scelta, è un nostro obiettivo. In questo momento c'è un dato di fatto, che ci sono stati tolti 15 punti, giusto? E abbiamo 23 punti, e da lì non possiamo scappare. Ora, quindi noi bisogna fare, far sì che bisogna raggiungere i 40 punti che sono quella salvezza, mi viene da ridere, ma è così. Però, noi bisogna, prima di tutto, darsi dei mini obiettivi. Qual è il primo obiettivo? Primo, è cercare di prendere quello che è al dodicesimo posto, e poi andare a scalare in avanti. Perché? Perché riuscendo a fare così, sicuramente vinceremo delle partite, perché a paccoli davanti bisogna vincere delle partite. E questo bisogna assolutamente fare, perché poi ci consente di tenere alta l'attenzione per poi, quando giocheremo in Europa League, visto che la Coppa Italia è ad aprile.